Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine del 2021 e questo è l'ultimo video dell'anno. Questo è un finale di anno sicuramente diverso e meno catastrofico rispetto al finale del 2020. Il 2021 è stato un anno in cui siamo riusciti a realizzare molti progetti che fino a questo momento non eravamo riusciti né a iniziare né a portare a termine. È stato un anno in cui abbiamo differenziato molto il nostro tipo di lavoro e il nostro tipo di prodotti realizzati. È stato l'anno in cui siamo andati in Namibia, l'anno in cui siamo andati alle Faro e siamo tornati a viaggiare, siamo tornati ad esplorare. Però per una volta forse è meglio che chiudo la bocca e lascio parlare le immagini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È stato sicuramente un anno pieno di emozioni, un anno pieno di immagini, un anno pieno di sensazioni incredibili. Con questo video vi auguro che il prossimo anno sia così anche per voi. Vi auguro di catturare tante meravigliose immagini e soprattutto di esplorare tantissimo. Ciao ragazzi e buon 2022.